Tommy, io sostengo che diminuendo la plastica miglioreremmo la nostra vita. Se per te migliorare la vita significa vivere senza auto, aereo e pc. Il problema sono gli imballaggi di plastica dispersa nell'ambiente. Usare la plastica non significa per forza comportarsi da maleducati e gettarla in mare. Ma a prescindere dal materiale, il problema qui è un altro, è il senso civico. Ma infatti la plastica si ricicla, l'alta moda ha creato dei capi esclusivi col filato di plastica. Sì Tommy, ma non possiamo sempre aspettare gli altri, il cambiamento deve iniziare da noi. Oggi per essere figo devi per forza dire che la plastica è out. Ma no, oggi per essere figo devi dire che la plastica è un tema complesso. Quando si tratta di plastica, avere ragione non serve. Servono buone ragioni da condividere. Corepla, per una ecologia dell'informazione.